musica 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 hi guys ragazzini ragazzulli ragazzulli oggi siamo in una BMX spirally non so come si dice ma dovrebbe essere una spirale ragazzi fatta con questi container con la BMX adesso iniziamo una merda si iniziamo una merda si può città ok si può città dove è il checkpoint? ragazzi si può cittare eh? no credo di no ma è lì lì il checkpoint no non credo si possa cittare ok allora facciamo legittimamente questa spirale ah non è facile eh sono partito malissimo ok 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 no 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 stavo mantenendo il ritmo no 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 sicuramente qualcuno ce l'ha fatta c'è una sina dell'autoambulanza vada questo che mi è spinto allora deve essere troppo difficile dai ok ok mantieni il ritmo così perfetto no raga era una stronzata era porca io ero una stronzata proprio era una merita stronzata questa cosa e noi ci abbiamo messo secoli per farla siamo al terzo posto peccato peccato raga veramente peccato speriamo che ci sia qualcosa altro di difficile perché sennò abbiamo finito praticamente la gara qui cioè arriveremo al terzo posto o no 47 secondi di distacco raga cos'è qui? oh no cazzo qua potevamo recuperare qualcosa devo fare un cavallo qui? si ma era semplicissimo ok perfetto veniamo qui impegniamo uh giusto giusto raga dove sono questi? 16 secondi e 26 secondi guarda non è non è che sono così impossibili da chi a fare eh non è che sono 19 c'è ecco eccolo lì il secondo raga no no cazzo perciò ha fatto il giro bastardo primo addirittura ero no ragazzi guardateli guardateli raga potevo benissimamente recuperarli no che cazzo ne ho stato se facevo così avevo già recuperato tantissimo tempo qui c'è qui la gara vediamo un attimo di recuperare nooo no 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 ero primo non ci credo che occasioni sto perdendo ragazzi eccolo lì hanno sbagliato di nuovo hanno sbagliato di nuovo raga ma è semplicissimo è semplicissimo andiamo alla prima posizione incredibile ragazzi non ci credo non ci credo raga no 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 non morire qua ok no ragazzi è incredibile cioè sono stati veramente noob questi è incredibile poi o non facciamo stronzate ok perfetto bene così ragazzi bene così non voglio fare trick non voglio rischiare voglio andarmi a prendere la prima posizione non so come ragazzi veramente non ho vinto meritatelamente secondo me perché ci sono stati dei noob incredibili ma vabbè accettiamo la vittoria con piacere e ci vediamo al prossimo video ragazzi falow